Bisogna fare attenzione su noi stessi perché la Sampdoria avrà entusiasmo a un allenatore che è Marco Giampaolo che è bravissimo che ha dato un gioco, ha dato un'impostazione tecnica, soprattutto tattica, alla squadra e poi vengono a un momento favorevole, loro non hanno niente da perdere e domani dopo la vittoria dei derby potranno, cercheranno di colorare un sogno e di battere la Juventus e quindi noi se non siamo pronti, se non ci mettiamo al pari loro diventa un casino